Seconda edizione del Memorial Pasquale Apicella Giovanni Vivenzio, Coppa Regina Pacis, torneo amatoriale di calcio a otto, intitolato alla memoria dei due poliziotti scomparsi tragicamente in servizio. Un'occasione è stato spiegato nel corso della presentazione al Maschio Angioino per ricordare il loro sacrificio e per dare merito anche a tutti gli agenti di polizia che quotidianamente affrontano con coraggio e umanità le sfide e le difficoltà del loro compito. Al torneo parteciperanno 36 squadre con 650 atleti coinvolti e più di 150 partite da disputare. Il match di apertura si svolgerà il 21 febbraio mentre la conclusione del torneo è prevista per il 28 maggio. Tra le novità di questa edizione la finale della Supercoppa conclusiva tra i vincitori della categoria Polizia e quelli della categoria Professional si svolgerà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il questore di Napoli, Alessandro Giuliano. L'iniziativa è estremamente importante quella di ricordare Lino Apicella e Gianni Vivenzio e con loro tutti i nostri caduti attraverso soprattutto i valori sani dello sport una cosa a cui teniamo particolarmente anche quest'anno. Abbiamo sempre detto che in una realtà così complessa è importante quanto sia importante fare rete, che tutti facciano rete. Farlo attraverso il praticare la memoria in modo attivo di due caduti della Polizia di Stato penso sia particolarmente rilevante. Alessandro Papaccio, dirigente di AECS. La convivenza civile è il nostro primo obiettivo, lo sport è un veicolo straordinario di inclusione quindi noi cerchiamo in tutti i modi di favorire l'impegno anche di altri enti istituzionali al fine di favorire la legalità, la partecipazione, lo stare insieme. Per noi è un grande momento non solo di sport ma è un grande momento di essere uniti. Le parole di Giuliana Ghidotti, la moglie di Pasquale Apicella. Il ricordo di mio marito è un riconoscimento al suo sacrificio e il fatto che non si venga dimenticati è una cosa che ha molto peso in queste situazioni. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti anche la Presidente del Consiglio Comunale Insamato, l'assessore alla sicurezza Antonio Di Jesu e l'assessore allo sport Emanuele Afferrante.